Allora ragazzi, ciao a tutti, sono Soleile e benvenuti in questo nuovo video. Ci sono state le estrazioni per la Juventus Women, incontreremo il Lione ai quarti. Devo dire, basta non incontrare il Barcellona ragazzi, forse preferisco il PSG. Allora, è un discorso strano da fare perché secondo me a livello di individuali il PSG è meno forte del Lione, però a livello di testa forse vedo il PSG un po' più avanti, nel senso che il Lione tante volte pecca d'arroganza e perde. Quindi non lo so neanche io. Beh, importante non aver preso Barcellona perché quelle oltre alle individualità hanno anche la testa ed è un casino prenderle. Siamo stati estratti all'inizio con il Wolfsburg, però avevano spiegato che nel momento in cui due dello stesso gruppo fossero state estratte insieme la seconda estratta andava subito nell'accoppiamento dopo e nulla, invece si rifaceva il sorteggio della prima. In questo caso c'era capitato il Wolfsburg, hanno riestratto e hanno preso il Lione che era molto meglio perché il PSG era già stato estratto e quindi avevamo solo Lione o Barcellona come possibilità, meglio il Lione del Barcellona sicuramente. Hanno estratto anche le semifinali, chi passa fra Lione e Juve va contro PSG o Bayern, quella che passa fra di loro e quindi suppongo che il Barcellona sia già in finale di Champions. Vabbè, comunque niente ragazzi, come ho detto, c'è una delle due, nel senso Barcellona era proibitivo. Lione e PSG, dai, almeno un risultato positivo secondo me si può fare. Non penso che possiamo fare due risultati positivi, però uno dei due magari sì. Nulla ragazzi, ieri mi avevate chiesto anche della Coppa Italia, ragazzi ci sarà il sorteggio nei prossimi giorni, non lo so, la FGC è strana, vabbè. Nei prossimi giorni ci sarà il sorteggio per decidere chi passa del gruppo di Empoli, Napoli e Chievo. Se passasse l'Empoli, ragazzi, noi prenderemo l'Inter ai quarti di finale di Coppa Italia. Se passasse il Napoli, prenderemo proprio il Napoli, mi sa. E se passasse invece il Chievo, prenderemo il Como. Quindi vediamo. Diciamo che in ordine, secondo me, l'Inter sarebbe la peggiore da prendere ai quarti di Coppa Italia. Come si chiama? Il Como sarebbe la seconda peggiore e il Napoli sarebbe forse la più facile, ma perché l'abbiamo già affrontata. Il Como è una bella squadra e non l'abbiamo affrontata perché attualmente sta in Serie B, quindi non lo so, non lo so. Vabbè ragazzi, sempre fino alla fine forse Juventus Women, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!